Giorgio Parodi è una partita importante per la storia della pallavolo genovese e adesso è finita con gli spumanti a storia, quindi un grande momento. Sì, è un grande momento. Per la Liguria abbiamo fatto un passo storico, mai nessuna società era riuscita a arrivare in finale di A2 e neanche prima in Iuna, a dire la verità. Noi abbiamo fatto anche quest'anno, dopo l'anno scorso abbiamo vinto il titolo di B2 e l'accesso a Coppa Italia, quest'anno un altro record è entrare in finale di A2. Nella prossima partita un regalo in più ci sarà il pubblico che potrà vedere finalmente dal vivo questa squadra che sta stupendo tutti. Sì, già oggi avete visto un po' di accesso c'era, però poi dalla prossima partita iniziamo con l'apertura a 250 posti, quindi vedere un palazzietto a 850 posti e mettere nel 200 e 250 è tanta roba. Quindi io sono contento, è una vittoria dello sport, è una vittoria della mia squadra, ma anche una vittoria per tutto il movimento. Che effetto fa arrivare da neopromosse come la squadra che ha fatto meglio in B1 e anche nei play-off? Perché i play-off 3-0 andate e ritorno in semifinale è tanta roba come risultato. Sì, siamo arrivati in primi in regola Siso, da neopromossa. I quarti di finale abbiamo vinto 3-0 e 3-0 contro Parella, che è una grande squadra, e anche oggi 3-0 e 3-0, uno degli ottimi parziali contro Virtus Biella. Che dire, ora siamo lì, ci manca poco, comunque vada, le mie ragazze hanno fatto veramente un percorso eccezionale, se lo ricorderanno per tutta la vita. Non so se mi capiterà più un'altra volta nella storia palavonistica di queste ragazze qua arrivare in finale a 2, ma soprattutto sarà difficile rifare di nuovo un tour de force come quest'anno.